Ignazio Moser non sta tanto bene e nelle ultime ore Ignazio Moser ha fatto un annuncio inatteso a tutti coloro che lo seguono sui social Delle dichiarazioni che hanno lasciato col fiato in gola i follower che quotidianamente vedono foto e video del loro beniamino Attraverso un post condiviso tra le storie del suo account Instagram, il fidanzato di Cecilia Rodriguez nonché ex naufrago dell'isola dei famosi 2021 ha detto, purtroppo ho dei piccoli problemi di salute Subito dopo l'ex ciclista Trentino ha spiegato che per un po' di tempo sarà lontano dai social Andiamo a vedere nel dettaglio cosa gli sta accadendo L'annuncio di Ignazio Moser Ignazio Moser ha raggiunto la massima popolarità qualche anno fa quando ha partecipato al grande fratello VIP conoscendo anche la sua attuale fidanzata Cecilia Rodriguez Il ragazzo qualche mese fa si è messo alla prova partecipando all'isola dei famosi, mentre nella giornata di lunedì ha fatto sapere a tutti coloro che lo seguono di non stare bene Lo sportivo Trentino ha rotto il silenzio con queste parole, riguardo ai problemi di salute che sta avendo, mi stanno dando noia da parecchi giorni ormai Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi La reazione dei suoi follower sempre nel medesimo post condiviso su Instagram Ignazio Moser dopo aver detto di sperare che non siano nulla di preoccupante i problemi di salute con cui sta facendo i conti Ha rivelato che non sarà presente sui social per un po' di tempo Staccherò tutto per alcuni giorni Vi terrò aggiornati, ha scritto l'ex Gfino Ovviamente non sono mancati i commenti da parte dei suoi follower che sotto il contenuto in questione hanno scritto, prenditi cura di te stesso Ti auguro di stare bene e di ritornare più forte Buona guarigione grande uomo, forza andrà tutto bene guerriero, spero di cuore che ti ristabilisca presto Sei un guerriero, andrà tutto bene ne sono sicura, riguardati e rimettiti presto, vedrai che tutto si risolverà Noi ti aspettiamo Noi ti aspettiamo